ancora una volta si è registrato uno spiacevole episodio sulla spiaggia del lungomare di agropoli spiaggia di san marco fate schifo potevate andare in tantissimi altri posti dove adulti e bambini non rischiavano niente e invece avete preferito mettere in pericolo anche gli altri oltre voi stessi sono parole piene di rabbia e preoccupazione quelle che emergono sulla pagina facebook am agropoli da parte di un cittadino uno sfogo condiviso da tanti cittadini del comune cilentano e non solo davanti ad un'immagine del genere un tubicino pieno di sangue con il beccuccio della siringa e probabilmente anche lago non è la prima volta che si trovano residui di questo tipo diverse le siringhe lasciate incustodite lungo le spiagge da tossicodipendenti probabilmente la sera precedente si tratta di un problema serio che si ripresenta ogni stagione estiva e a cui ancora non è stata trovata una soluzione concreta sottolinea una cittadina troppi gli episodi negli anni precedenti di chi è stato appunto ad un piede da siringhe nascoste tra la sabbia e tutto ciò può ripetersi e capitare a bambini adulti anziani i rischi possono essere gravi e bisogna necessariamente sottoporsi a controlli e analisi l'appello è quello di mantenere le spiagge assolutamente pulite e di aumentare i controlli da parte delle forze dell'ordine durante le ore serali la spiaggia e il mare rappresentano l'estate il relax e il divertimento ma tutto ciò può diventare pericoloso e preoccupante può trasformarsi da una piacevole pausa in un momento di panico e paura grazie a tutti